Il centro commerciale Bari Blu riparte da un nuovo ipermercato, iper-simpli, 3.500 metri quadrati gestiti da una squadra di 70 addetti pronti a garantire, spiegano dalla direzione, accoglienza per mettere in pratica le tre parole d'ordine, risparmio, qualità e semplicità. Simpli, della società Puglia Distribuzione, leader in Puglia, con un fatturato di circa 600 milioni di euro e oltre 1.200 dipendenti, ha aperto i battenti a Trigiano, puntando soprattutto sull'ampia offerta di freschi di qualità e su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un nuovo ipermercato, un nuovo corso che oggi riconosce solo l'inizio, perché comunque la storia e l'offerta soprattutto di Bari Blu continua e culminerà il 30 maggio con l'apertura del nuovo punto vendita expert. Il marchio Simpli pone particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni locali, avviando progetti di partnership con produttori della zona per favorire l'economia del territorio che ospita i propri punti vendita. 3.700 metri quadrati, quindi un ipermercato molto compatto, poco dispersivo e soprattutto con un'offerta più ampia. Sembrerebbe un paradosso, ma in realtà non lo è. Un ipermercato più piccolo è riuscito comunque a raccogliere molte più referenze rispetto al passato. Perché? Perché si è specializzato soprattutto nel food, anzi quasi esclusivamente nel food. Quindi è andato letteralmente incontro alle tendenze della domanda, quindi del pubblico, raccogliendo solo prodotti alimentari o quasi esclusivamente prodotti alimentari. Grandi novità in programma nei prossimi giorni, anche attrazioni e spettacoli. Oggi è l'inizio, in realtà ci sono eventi in co-marketing che partiranno da oggi e culmineranno almeno fino al primo maggio. Però in realtà la storia e il rilancio di Body Blue parte da oggi e andrà a finire il 31 dicembre del 2015. Sì, Albano è una prospettiva prossima, diciamo, come ospitata di questo centro commerciale e credo che il 16 aprile verrà a trovarci anche per presentare i suoi prodotti. Anche perché lo ricordiamo, Albano è un noto viticoltore e quindi ha una bellissima cantina. Ipersimpi lo accoglierà per questo in-store, questo in-store un po' atipico. Grazie.